Pastorale Familiare assieme ai distretti sociosanitari al Comune della Spezia organizzano un incontro particolarmente significativo. Di che cosa si tratta? Sì, il 10 gennaio alle ore 17.30 nel Salone di Tele Liguria Sud si terrà questo incontro informativo per quanto riguarda il tema dell'affido. Che cos'è l'affido intanto? L'affido vuol dire donare alcune ore della giornata o durante la settimana o prendersi un impegno più importante e rimanere accanto a un bambino o a un minore che ha sì la sua famiglia ma che sta vivendo un momento di disagio fortemente appunto di degrado anche a volte e quindi i servizi sociali diciamo decidono di affiancare una famiglia o una persona di modo che possa prendersi cura adeguatamente di questo bambino e farle vivere dei momenti un pochino più sereni. Questo incontro diciamo la partenza, la base sarà un film d'animazione che ha vinto anche molti premi proprio perché diciamo tratta delle tematiche sociali anche che riscontriamo noi nella quotidianità e appunto la dottoressa concetta Versi che è la responsabile del centro a fine del comune della Spezia partirà da alcuni brani tratti da questo film d'animazione per raccontarci un po' che cos'è l'affido nel nostro territorio, come viene affrontato, cosa è stato fatto ma anche che cosa si deve e si può ancora fare per far conoscere meglio questo istituto così importante e stare comunque vicino ai bambini e anche alle famiglie di origine. Ecco a chi è rivolto questo momento di riflessione su un tema così significativo? È rivolto a tutti coloro che desiderano intanto avere solo informazioni e poi magari nel tempo possono anche rivolgersi appunto ai servizi sociali di Via Fiume e chiedere informazioni più importanti diciamo riguardo l'affido. Quindi alle persone che hanno piacere di donare qualche ora durante la settimana anche solo appunto essere informati su questa tematica.